Buongiorno, bentrovati, buon venerdì 20 maggio, buona memoria di San Bernardino da Siena. Oggi infatti la liturgia, tanto ambrosiana quanto romana, ricorda questo grande santo discepolo di San Francesco, non direttamente perché è vissuto secoli dopo, ma un grande innamorato di Maria e innamorato del nome di Gesù. Bernardino da Siena fu uno dei promotori dell'osservanza, cioè il ritorno alla regola di San Francesco vissuta proprio letteralmente, osservata alla lettera, quindi ritorno alla vera rigorosa povertà e propugnò e propose la devozione al santo nome di Gesù. Per questo incontrò ostacoli, addirittura fu accusato di eresia, ma fu scagionato da ogni processo e la devozione al santo nome di Gesù si diffusa nel popolo di Dio. Bernardino da Siena, con la sua figura austera e autorevole, grandissimo predicatore, capace di toccare il cuore delle persone, morì all'Aquila il 20 maggio del 1444 e anche appena morto fu capace di portare la riconciliazione tra i cittadini. Ascoltiamo il Vangelo di oggi secondo il nostro Rita Ambrosiano, lettura del Vangelo secondo Giovanni In quel tempo il Signore Gesù esclamò, chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto nel mondo per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha ordinato Lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il Suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. Parola del Signore. Siamo sempre nel capitolo dodicesimo di Giovanni, siamo nella conclusione della prima parte del Vangelo, il Libro dei Segni, e Gesù con queste parole in qualche modo dà una sentenza definitiva rispetto all'incredulità. Chi non ascolta la parola di Gesù, non ascolta il Padre. Chi non ascolta la parola di Gesù, rimane nelle tenebre. Chi non ascolta la sua parola, non è condannato da Cristo, ma si condanna da solo, perché è la parola pronunciata che lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà, dice il Signore, nell'ultimo giorno. Ecco allora, guardiamo a Gesù, ascoltiamo le sue parole, custodiamole, mettiamole in pratica, e camminiamo nella luce e non nelle tenebre. Questo è anche il grande insegnamento di San Bernardino, che ha amato Gesù, ha amato il nome di Gesù, ha messo in pratica la sua parola. Chiediamo la grazia di essere persone che vivono la parola di Gesù, che la mettono in pratica tutti i giorni, che la ascoltano tutti i giorni, che la custodiscono con amore. E chiediamo la grazia di un vivo amore per Maria, perché lei per prima ha custodito la parola, a tal punto di aver dato carne al verbo, cioè alla parola del Padre. Chiediamo la grazia di camminare nella verità e nell'amore. Preghiamo gli uni per gli altri. Buona giornata. Sielo dato Gesù Cristo.